Senza altri indugi, diamo il benvenuto a Yo-Yo Ma! Salve a tutti! Come va? Vorrei iniziare con una vecchia barzelletta. Un bambino di 6 anni dice al padre, quando sarò grande voglio fare il musicista. Il padre guarda il figlio, scuote la testa tristemente e dice, mi dispiace figliolo, non puoi fare entrambe le cose. Quando ero bambino sono accadute molte cose. Quest'anno è venuto a trovarci un giovanotto di 7 anni che si chiama Yo-Yo Ma. È un violoncellista cinese che suona musica francese per i suoi nuovi compatrioti americani.